Ultimo round della stagione della Superbike 2021 e si è segnato finalmente il titolo del mondo di quest'anno al termine di un duello sensazionale tra un talento purissimo che è Toprak Rasgatioglu e il cannibale Jonathan Ray, uno dei GOAT della categoria Superbike. Dopo sei titoli del mondo consecutivi il cannibale abdica perché in Indonesia nel nuovo tracciato di Mandalika abbiamo il primo titolo del mondo della carriera per il numero 54 della Yamaha Toprak Rasgatioglu che capitalizza al massimo il margine di vantaggio che ha avuto all'ingresso dell'ultimo round indonesiano. Erano 30 i punti di vantaggio per quanto riguarda il turco e nonostante un weekend che non si era posto benissimo visto che c'è stato un rinvio plurimo delle varie gare di Superbike per quanto riguarda le condizioni atmosferiche disastrose alla fine pur non vincendo Rasgatioglu porta a casa il primo titolo del mondo e di fatto fa mettere a Jonathan Ray il suo numero originario ovvero il 65 che Jonathan Ray peraltro ha indossato al termine della gara 2. che peraltro appena finito di vedere da poco una gara 2 peraltro rimandata anche questa vista la grande condizione di difficoltà della pista di Mandalika. È comunque un Jonathan Ray che abdica da doppio vincitore perché evidentemente il nord irlandese su questo tracciato si è trovato nella condizione migliore paradossalmente di testa e il cannibale non aveva niente da perdere evidentemente visto il margine di svantaggio che aveva su Rasgatioglu. Ray doveva semplicemente fare una cosa vincere e sperare di un passo falso di Rasgatioglu che non è arrivato Ray vince le due gare rimaste in programma quella di stanotte alle 4 e quella appunto che si è finita diciamo di correre da poco. 111-112 vittorie in carriera per Jonathan Ray ma basta e avanza il secondo posto di top ragazzo da Tioglu in gara 1 per far permettere alla Turchia di aggiungere un altro titolo del mondo. al proprio palmarès dopo gli infiniti titoli di Cannons of Oglo in Super Sport 600 peraltro anche questa categoria alla estinzione visto che l'anno prossimo cambierà il regolamento. Aggiungiamo il primo titolo di un talento purissimo di un pilota che si era visto fin dagli inizi della carriera in Superbike con Puccetti che poteva assolutamente avere i crismi del campione. era di fatto un pilota Kawasaki che poi è stato scaricato dalla stessa casa in favore di altri interessi e Rasgatioglu è andato via da Kawasaki sbattendo la porta. L'episodio chiave fu il non averlo schierato all'8 ore di Suzuka è andato a Yamaha e dopo il primo anno dell'anno scorso dove comunque aveva già fatto vedere qualcosa quest'anno Rasgatioglu ha completato il processo di maturità e ha dato vita a un duello con Jonathan Ray veramente spettacolare dando vita probabilmente a uno dei campionati di Superbike. più belli degli ultimi anni ed è proprio il turco classe 96 che fa abdicare il pluricampione del mondo Jonathan Ray e le basi dunque per una replica di questo straordinario duello l'anno prossimo ci saranno assolutamente. Rasgatioglu paradossalmente in questa condizione indonesiana aveva molto evidentemente da gestire e infatti è stato così è stata una gara 1 migliore in realtà di gara 2. gara 1 ricordiamo Rasgatioglu ha fatto podio in gara 2 che si è svolta su condizioni difficilissime perché ancora una volta così come sabato è successo che una pioggia torrenziale si è abbattuta sul tracciato di Mandalika rinvio della gara ancora una volta non però ovviamente al giorno dopo come quella di sabato ma con partenza alle 9 anziché alle 8 la pista comunque era in condizioni disastrose tutti i piloti di fatto hanno corso su una pista allagata e di conseguenza gomme da batto estremo per tutti condizione per il quale Rasgatioglu non era propriamente il go to guy e infatti si sono visti i piloti britannici e Van der Mark fare molto bene soprattutto in gara 2 gara 2 peraltro è stato un qualcosa di allucinante perché è vero che va a vincere Jonathan Ray con un duello però incredibile contro Scott Redding i piloti che potevano veramente sorpassarsi a ogni curva praticamente se le sono date di santa ragione fino al termine della competizione che alla fine vede il nord irlandese Jonathan Ray averla meglio sull'inglese Scott Redding per la 112esima vittoria in carriera per quello che oramai è l'ex campione del mondo regnante dall'anno prossimo il nuovo campione regnante sarà top Rasgatioglu e appunto come appunto dicevo all'inizio Jonathan Ray ha già abbandonato il numero 1 per tornare al suo numero originario che è il 65 e sarà mi auguro ancora una volta l'anno prossimo un campionato dove si possa replicare un duello del genere appunto tra Rasgatioglu e Jonathan Ray sperando che ci sia anche la Ducati di mezzo una Ducati che peraltro saluta il suo pilota di punta di quest'anno Scott Redding con due prestazioni interessanti con un podio in gara 1 a completare appunto un trittico con i big 3 di quest'anno con Ray vincitore Rasgatioglu secondo e Redding terzo il podio invece di gara 2 fatta su gara diluvia ma all'ennesima potenza con pista praticamente allagata vede ancora una volta Jonathan Ray vincente di conseguenza per lui ancora una volta suona God Save the Queen secondo è appunto quello Scott Redding che sul bagnato ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo e ci teneva tantissimo evidentemente a chiudere la carriera in Ducati con una vittoria e invece arriva un secondo posto e terzo uno specialista del bagnato ovvero Michael van der Mark che chiude la stagione in BMW con un podio avendo peraltro la meglio di quel top per Rasgatioglu che comunque aveva capitalizzato con una pole position in qualificazione ma poi ha gestito prevalentemente quello che c'era da gestire tanto è vero che appunto il punteggio finale recita il 564 per Rasgatioglu 551 per Jonathan Ray Rasgatioglu che comunque peraltro gara 2 non la corsa proprio al massimo della potenzialità visto che ha avuto anche un problema al cambio elettronico che appunto gli ha fatto perdere qualcosina fatto sta comunque che il turco ha meritato di vincere il titolo del mondo ed è stato veramente l'unico a dare filo da torcere a Jonathan Ray Jonathan Ray che ricordo veniva da 6 titoli del mondo vinti consecutivi e già questo rende Ray uno dei GOAT della disciplina Rasgatioglu ha invece i crismi del campione del talento non so se riuscirà a infilare una streak di titoli consecutivi come Jonathan Ray perché comunque battere Johnny è sempre complicato e l'anno prossimo mi auguro di vedere un campionato ancora su questi livelli però aver comunque battuto colui che dominava da anni la categoria con una moto che comunque era superiore rispetto alle altre ma ha avuto ragione comunque di più avversari a partire da Chats Davis a partire anche da Alvaro Bautista insomma battere Jonathan Ray è veramente complicato perché Jonathan Ray in condizioni normali vince e quando sbaglia e quando è in forma tendenzialmente fa podio Rasgatioglu ha fatto quel click mentale che gli ha permesso di duellarsela con un campionissimo come Jonathan Ray e dunque onore al merito a topra da Rasgatioglu per il suo primo titolo del mondo della categoria e speriamo ce ne possono essere anche altri visto che comunque ricordiamo che l'età di Rasgatioglu è dalla sua in un round peraltro indonesiano appunto caratterizzato per quanto riguarda la superbike dal diluvio universale logicamente correndo a novembre in terra asiatica è normale che in queste zone del sud est asiatico in particolare ci siano tifoni o comunque piagge torrenziali che impediscano lo svolgimento regolare delle gare tanto è vero che appunto è stata annullata la sprint race per tornare al vecchio format di una volta quindi con due gare lunghe eppure nonostante la pioggia il circuito di Mandalika ha tenuto alla stragrande perché i piloti di testa in particolare Ray e Redding in gara 2 hanno corso in 6 secondi più lenti rispetto all'asciutto che è un qualcosa di straordinario ok che Ray e Redding sul bagnato sono dei mostri assoluti ma è anche segno che questo nuovo impianto perché è stato costruito veramente da pochissimo ha avuto una resa mostruosa nel tenere l'acqua cosa che magari su altre piste anche europee si fa evidentemente più fatica a vedere e invece la tenuta grande dell'asfalto e questi piloti che c'è stato veramente dentro del brutto come se veramente fossero sull'asciutto il problema che erano su pista allagata hanno regalato una gara 2 bellissima un po' simbolo di questa stagione della superbike che è stata veramente piacevole soprattutto lottata fino all'ultimo ed era da anni che non si vedeva appunto un titolo del mondo contestato fino veramente a gara 1 perché appunto poi gara 2 è stata di fatto un pro forma è una superbike che appunto ci lascia con Jonathan Ray sconfitto ma con un Rasgatioglu che dovrà necessariamente continuare a essere su questi livelli per difendere il titolo nel prossimo anno ci lascia un'Italia della superbike che qui non ha fatto benissimo ma che comunque può assolutamente ritenersi soddisfatta in tutto l'arco della stagione e lascia veramente dei punti interrogativi importanti per l'anno prossimo che andranno a essere risolti perché molte line up cambieranno Reading per esempio andrà in BMW Bautista ritorna in Ducati quella Ducati che l'aveva reso praticamente l'uomo da batteri in quel mondiale poi buttato via contro Jonathan Ray quantomeno per la prima metà gli nostri ragazzi italiani potranno crescere ci sono tante combinazioni interessanti è una superbike che secondo me ha del talento su cui investire e lo vedremo ovviamente anche l'anno prossimo quando presenteremo da capo la stagione 2022 è stata veramente una gara di mandalica per quello che ho visto io sono riuscito a vedere gara 2 e qualcosina di gara 1 che comunque ha regalato delle sorprese fossi l'organizzatore terrei questa tappa ma non la conclusione evidentemente del mondiale superbike ma lo metterei magari in una stagione un pochino più felice in modo magari da evitare questi disagi dovuti alla pioggia in ogni caso è giusto anche una volta assegnare i premi come faccio di solito anche nelle altre categorie motoristiche io voglio dare due premi in realtà che obiettivamente sono gli stessi perché parliamo del rider del giorno è evidente che Jonathan Ray è il rider del giorno per quanto riguarda la gara di mandalica perché ripeto doveva fare una cosa e la fatta doveva vincere sperando che Razgatioglu facesse un passo falso ma Razgatioglu è un uomo di ghiaccio ha una mentalità ferrea ed è difficile evidentemente da scalfire anche da questo punto di vista e di conseguenza anche Razgatioglu per come doveva gestire la gara e per come appunto è riuscito a farlo si merita evidentemente anche lui ex equo il rider del giorno ma Razgatioglu e Ray secondo me sono i rider della stagione hanno tenuto in piedi un mondiale veramente sensazionale peccato che Reading abbia buttato via più gare del previsto altrimenti sarebbe stato un mondiale conteso addirittura a tre e chissà se con il ritorno di Bautista con la Ducati V4R Panigale ci possa essere addirittura appunto una sfida con tre contender anziché con soltanto due per quanto anche avere due contender che si sfidino dalla prima all'ultima gara è evidentemente qualcosa di molto molto interessante per quanto riguarda gli altri risultati e andiamo ai piloti di casa nostra abbiamo detto tre italiani in questa competizione Locatelli conclude quarto in gara 1 segno che comunque anche lui con la seconda Yamaha ha completato un processo di crista molto interessante e dunque Locatelli può secondo me per l'anno prossimo diventare un pilota da podio visto che ha un anno di esperienze in più purtroppo meno bene sul bagnato e Locatelli qui purtroppo è una mezza delusione secondo me visto che di solito sulle connessioni di bagnato il pilota bergamasco è sicuramente più competitivo Rinaldi non fa una bella prestazione purtroppo finisce ai margini diciamo della top 10 in gara 1 con la seconda ufficiale poi anche lui fa fatica per quanto riguarda la gara 2 sul bagnato e finisce purtroppo per terra e si stende Axel Bassani non riesce a capitalizzare gara 2 ma fa una straordinaria gara 1 segno che Bassani probabilmente si meriterà il premio di rookie dell'anno la sorpresa più incredibile di questa stagione Bassani corre con una Ducati clientissima team motocorsa e quando farò il pagellone settimana prossima Bassani si prenderà un voto altissimo perché evidentemente ha fatto una gara straordinaria e l'ultimo italiano che ha corso in questa competizione erano 4 in realtà è Samuele Cavaliere che con la Ducati del team Barney chiude la stagione con una doppia quattrodissima posizione comunque più che onesta considerato che appunto la prima parte della stagione l'ha corsa come una moto stock e poi ha dovuto riambientarsi una moto che comunque già conosceva in ogni caso il concetto non cambia è da un po' di tempo che dico che l'Italia dello superbike ha 3 piloti su cui puntare tantissimo e sono evidentemente Locatelli, Rinaldi e Bassani l'anno prossimo ci sarà anche Luca Bernardi in superbike che dovrà puntare a fare un anno di esperienza, di crescita per poi evidentemente concretizzare i prossimi anni anche se Luca Bernardi in realtà è un pilota di San Marino ma comunque strassimpatico e ce lo godiamo e ce lo teniamo stretto il buon Luca è anche la giornata peraltro della superbike che saluta appunto oltre che i piloti che cambiano team piloti che si ritirano dalla superbike ed è stata questa quella di Mandalika l'ultima gara in carriera del dragone Chad Davis, uno dei piloti che mi ha fatto sinceramente innamorare della superbike in tempi recenti è stato purtroppo un pilota che ha vinto molto meno di quanto avrebbe potuto ha beccato purtroppo contro un Jonathan Ray Prime che era veramente difficilissimo da battere è stato comunque diverse volte runner up della superbike quest'anno era in una moto che non era propriamente performante eppure qualche risultato positivo lo ha portato a casa in particolare abbiamo un podio a Estoril per il dragone gallese che appunto si ritira ci viene peraltro maturato dopo il grave infortunio patito a Barcellona che gli ha fatto saltare anche le due gare di Jerez e Portimao se ne va appunto uno dei piloti più competitivi degli ultimi anni uno dei piloti che sinceramente al tifoso Ducati mi fa veramente affezionare appunto alle derivate della serie e anche a lui come persona è difficile ritrovare un pilota nei prossimi anni come lui quindi dal mio piccolo voglio augurare una buona fortuna e un grosso in bocca al lupo a Chad Davis per il proseguio della sua vita in pista mi ha fatto veramente tanto divertire e veramente grazie al dragone per quello che ha offerto a me come tifoso Ducati in tutta la sua grande e generosa carriera una superbike che dunque ha chiuso i battenti dopo 13 round una superbike che tornerà l'anno prossimo così come la Supersport di cui dobbiamo parlare perché è vero che il titolo del mondo in questa categoria era già stato assegnato ma dobbiamo celebrare la prima vittoria della carriera per Raffaele De Rosa che in una gara incredibile se l'asciutto in questo caso prima che la superbike al sabato venisse rinviata a meglio di Dominic Gerter il campione regnante di categoria involata in una gara pazza dove De Rosa aveva mostrato un passo mostruivo all'inizio in una gara incredibile che va a bagnarsi pian piano poi la pista che appunto abbiamo già detto ha un drenaggio molto importante tiene, la pista si asciuga e Gerter recupera mezzo seconda al giro su lui e Caricasulo che hanno fatto una gara veramente importante si gioca alla volata all'ultimo giro De Rosa ha la meglio in un ultimo giro stoico e resistente taglia il traguardo per i primi e fa risuonare il canto dei italiani per la prima volta il pilota campano va a vincere una gara di super sport cosa che non era mai successa prima d'ora ed è trionfo per una Kawasaki clienti del team Orelac che dunque fa salire Raffaele De Rosa in settima posizione totale in classifica di campionato De Rosa poi concluderà quinto una gara 2 che invece vince Jules Clusel per cui suona la marsigliese uno Jules Clusel che aveva capito abbastanza poco in gara 1 pur partendo dalle retrovie della classifica invece si riscatta la grande nella seconda competizione seconda posizione per Niki Tuli che conquista il terzo podio della stagione al termine però di un 2021 disastroso o comunque molto difficile con la MV Agusta e poi il campione del mondo in carica Dominic Gerter chiude con un altro podio terza posizione per il dominatore assoluto di questa categoria che peraltro l'anno prossimo seppur con regolamento nuovo rimarrà in questa categoria in super sport 600 per difendere il titolo che qui è stato ampiamente meritato in una categoria di cui ci sarà molto da cui parlare e di cui io avrò molto interesse perché cambierà tantissimo il regolamento dell'anno prossimo ma lo vedremo anche qui nella presentazione che succederà l'anno prossimo in primavera mentre per quanto riguarda il racing podcast sullo superbike l'abbiamo concluso e ancora una volta celebriamo il titolo del mondo di Top Raskatioglu primo della carriera in superbike non finisce qui però l'appuntamento con il racing podcast perché se tutto va bene stasera ore 19 ci sarà il post gara del gran premio di Formula 1 GP del Qatar e sempre in merito alla superbike settimana prossima appuntamento con il secondo dei tre pagelloni del format promosso e bocciati appunto sempre per quanto riguarda la categoria delle derivate della serie fate più da cosa pensate dunque nel titolo di Raskatioglu se avete visto le gare di Mandalika che mi hanno veramente coinvolto tante sono state gare veramente bellissime il saluto da parte di Metutorgard ci vediamo al prossimo video Grazie mille Grazie mille